Hitler diventa cancelliere tedesco il 30 gennaio 1933. In quegli stessi anni la scienza sperimentale si stava concentrando su come sfruttare l'energia contenuta nei nuclei degli atomi. Questi sono i presupposti decisivi che avrebbero portato in una decina di anni alla costruzione di ordigni atomici. Ma andiamo per ordine. La strada maestra degli scienziati era, anziché analizzare passivamente il materiale naturalmente radioattivo, intervenire invece direttamente cercando il modo di riprodurre artificialmente un'area di attività in laboratorio. I più grandi passi avanti furono fatti da Irene Joliot-Curie e da suo marito Frederick ma anche dal gruppo di fermi a Roma dall'altra parte. I due metodi di sperimentazione prevedevano o l'utilizzo di protoni, quindi le famose particelle alfa di cui abbiamo parlato, o anche l'utilizzo di neutroni per bombardare il nucleo. Quello che si sapeva era che sostanzialmente potevano avvenire due cose o il nucleo bombardato decadeva secondo una serie radioattiva liberando energie e diventando via via più piccolo e quindi scendendo, diciamo così, nella tavola periodica, tipicamente dall'uranio numero 92 fino al piombo numero 82, oppure il nucleo assorbiva il neutrone che si sarebbe trasformato in protone e avrebbe liberato un elettrone, la particella beta, causando questa volta anziché una discesa, diciamo così, nella tavola periodica una risalita. Ad esempio il torio numero atomico 90 diventava protoattinio numero atomico 91. A Fermi sembra naturale provare a far assorbire un neutrone rallentato all'elemento più grosso che aveva a disposizione, ovvero l'uranio, per ottenere elementi ancora più grandi, i cosiddetti transuranici. Quello che succedeva era proprio che l'uranio si trasformava in un altro elemento e dalle prime analisi Fermi si convinse di aver trovato l'elemento numero 93 che ribattezzò Ausonio da Ausonia, il nome che l'Italia del sud aveva nell'antichità. Era marzo 1934. Nessuno mise in dubbio queste conclusioni, nessuno tranne uno, o meglio una. Ida Nodak fu lei a capire che Fermi si era sbagliato. Una fisica tedesca scrisse al gruppo dicendo che quello che era successo nell'esperimento non era la nascita di un nuovo elemento più grande dell'uranio, bensì che il nucleo di uranio in realtà si fosse diviso in due atomi più piccoli a seguito dell'incontro col neutrone. Ma come la storia di Cassandra nessuno le crede. Nessuno tranne forse Majorana, che probabilmente aveva già intuito quello che la Nodak scrisse a Fermi. Fu da qui infatti che Majorana si eclissò per quasi quattro anni. Il più grande genio scientifico italiano forse intuisce il seguito dalla scoperta. Sparirà per sempre poi nel 1938 senza lasciare tracce, come una particella quantistica. Ed è proprio nel 1938 che avvengono due cose contemporaneamente destinate a cambiare la storia. La prima è il Nobel a Fermi, che sfrutterà l'occasione per fuggire dall'Italia fascista e recarsi negli Stati Uniti, in particolare a Chicago, dove sarà capace di controllare una reazione a catena. Ne parleremo presto. E la seconda è che un'altra donna capì il motivo dell'errore di Fermi e confermò che l'atomo di uranio si era spaccato in due. Quello che avvenne è che i due fisici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann provarono innumerevoli volte a ripetere l'esperimento di Fermi e del suo gruppo, ottenendo però un altro risultato, non meno sbalorditi. Dall'incontro del neutrone con il nucleo di uranio, quello che si generava erano altri due nuclei ma più piccoli dell'atomo di partenza e totalmente inaspettati. Il bario, numero atomico 56, e il krypton, numero atomico 36. Il risultato è inequivocabile, fra l'altro 56 più 36 fa proprio 92 che è il numero atomico dell'uranio. Hahn e Strassmann vorrebbero capire cosa è successo e perciò scrivono alla loro collega più dotata di intuito, la grande Lise Meitner, che è dovuta fuggire in Svezia per le sue vaghe origini ebraiche. Lise rimane sbalordita, anche per lei la rottura di un atomo, ricordiamo che il termine greco significa non divisibile, risulta ostica da accettare, ma poi si ricorda la metafora della goccia che Niels Bohr aveva usato per descrivere come era fatto il nucleo di un atomo. E tutto le si fa chiaro. Il nucleo è come una goccia d'acqua. È vero che se una goccia incontra un'altra gocciolina più piccola la assorba e diventa più grande, tuttavia c'è la tensione superficiale che ha un limite, cioè la forza che tiene insieme le molecole d'acqua nelle goccia ha un limite che se si supera rompe la goccia. Allo stesso modo deve succedere per l'uranio. Ci deve essere una forza che tiene uniti i protoni e i neutroni del nucleo, la forza nucleare è forte, scoperta peraltro da Fermi, che però ha un limite, un raggio di azione limitato. Se si supera questo limite il nucleo si spacca, il vaso trabocca, la goccia si divide ed è proprio quello che succede. Ma non solo. Il nucleo spaccato, oltre a liberare una gigantesca energia, rilascia anche a volte due, a volte tre neutroni. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il processo può continuare con una catena ininterrotta. Ne parleremo nella prossima puntata.